Saluto Romano, che cazzo è? No, non capisco se siamo live o meno. Forse non ancora. Allora, su Facebook adesso controllo. Io ho appena spento la diretta. Sì, sì, siamo in diretta. Perfetto. Ciao ragazzi, allora buona... Saluto Romano. Buonasera a tutti, ciao, ciao, ciao. Stelvio, ci inviterete a mangiare il pesce a Pescara? Ma sì, in realtà sono già programmate delle giornate per gli studenti dei Master. Esatto, il Saluto Romano è con la destra, che questa era alla sinistra. Bravo Damiano che hai visto benissimo. Sono già programmate delle giornate dal vivo per gli studenti del Master. Stelvio, non ricordo ora a memoria se tu ci sei o meno, ma chi ci sarà, volentieri, mangiamo il pesce quattro volte, una volta al mese per i prossimi quattro mesi, a partire da... Ottimo, ci sarai, perfetto. A partire da ottobre, saranno delle bellissime giornate. Stiamo preparando qualcosa di molto molto carino, anche di più rispetto all'anno scorso. Comunque, buonasera a tutti, ciao, benvenuti. Il 9 agosto 2018. Stasera è un po' più nuvoloso degli altri giorni, ma comunque il caldo c'è, le zanzare pure. Ma siamo qui per... Gli studenti salgono in cattedra. Terza serata, terzo appuntamento. Siamo anche in live su Facebook, quindi salutiamo tutti quelli che ci guardano su Facebook e ci guarderanno in registrata. Protagonista di questa sera, un altro studente dei nostri. Un altro studente dei nostri, che questa sera abbiamo uno studente del trading discrezionale. In particolare, studente del corso 3D in 30 giorni, ci racconterà la sua esperienza, Carlo Alberto Berardi. Ci sei, Carlo Alberto? Ciao, Giulio. Ciao a tutti. Ciao. Facciamo Carlo per facilità? Sì, sì. Non mi ha mai chiamato nessuno, Carlo Alberto. Mio padre, quando da piccolo, lo facevo incazzare. Eh, perché lei bisogna chiamarti seriamente. Esatto, era più serio. Esatto, esatto, esatto. Non hai la webcam? No, la webcam non ce l'ho. Quindi ti ascoltiamo, provvederò per la prossima volta. Benissimo, benissimo. Carlo, puoi cliccare su un pulsantino che trovi in basso, share, così puoi condividere il tuo schermo e vediamo la tua presentazione. Intanto ti racconterai chi sei, da dove ci segui, da quanto tempo ci segui, perché hai scelto sapienze finanziarie, che percorsi hai fatto con noi, cosa hai imparato, cosa intendi fare da qui in avanti, come il trading sta entrando nella tua vita e magari la sta anche cambiando un po' e come pensi che la cambierebbe in futuro. Quindi siamo qui per ascoltarti. Ok, perfetto. Ditemi quando... Ti vediamo, perfetto. Vediamo quindi via la terza serata e gli studenti salgono in cattedra. Ok. Allora, intanto saluto tutti i presenti. Devo dire che, come diceva Giulio Lari oggi, un po' emozionato, perché dopo la presentazione di Paolo, che già sta un po' avanti con gli studi, e Lucilla dell'altra volta, che invece è automatico, io sto... Sono il primo, praticamente, a fare questa presentazione sul trading, sul corso Trading in 30 giorni. Farò del mio meglio. Esatto. Tranquillissimo, tranquillissimo. Siamo tra amici, anche se ci sono più di 100 persone che ti stanno ascoltando in diretta, e non vedo l'ora di capire cosa hai fatto, quindi stai tranquillo, non c'è nessun motivo per essere teso. No, no. Ok. Allora, questo sono io, non sto al Polo Nord, era una fototest inverno quando ha più avuto la nevigata a Roma, e eccomi qua. Niente, ho 36 anni, questa è la mia famiglia, mia moglie Roberta di 34, e i miei due maschietti, come sta scritto lì, Manuel e Mattia. Belli. Cosa faccio? Cosa faccio? Lavoro momentaneamente in una sala operativa e ci dedichiamo alla gestione di impianti d'allarme. Io nella mia vita ho fatto diversi lavori e tutti molto movimentati, ho avuto un'impresa edile, ho avuto un bed and breakfast, quindi questo tipo di lavoro momentaneamente è pesante, nel senso in ufficio, immobile, otto ore, poi faccio anche doppi turni, è stato bello a lungo, sono orari un po' lunghi, è una noia pazzesca, però ho approfittato di rendere, diciamo, profittevole questo tempo, e praticamente mi sono fatto tutto il corso trading in 30 giorni al lavoro, perché il tempo fortunatamente, il lavoro me lo consente. Bravissimo, bravissimo. Quindi poi ecco, oltre a questo, sto per l'anno che viene in fase di valutazione di aprire una casa vacanze, qua dove vivo abbiamo un appartamento che si libera con i miei, di famiglia, stavo pensando di iniziare un'altra attività, che con la famiglia le entrate non bastano mai. E poi come vedete dalle foto, ecco, marito e papà, che forse è l'impegno più grande che c'è, però è quello che dà più soddisfazioni, e forse probabilmente è il motivo che muove un po' tutto, no? Penso, almeno, per me è così. Tutto io lo faccio per loro e per lei. Giusto. Iniziamo. Perché mi sono iscritto? È una bella domanda. Diciamo che inizia tutto col fatto che sono una persona molto curiosa, mi piace sapere un po' tutto, in effetti, studierei tutto. Però il, come si dice, il trading è un discorso che mi ha sempre affascinato, anche se prima di voi l'avevo sempre visto molto difficile. Qualcosa, ecco, che magari non era per tutti. E forse proprio questa cosa mi ha spinto a studiarlo. Nel senso, un po' di cultura personale, però mi piace sempre, magari se riesco a distinguermi un po' da quello che fanno tutti. Siccome le persone fanno trading, e soprattutto trading fatto bene sono veramente poche, preferirei essere da quella parte che non dall'altra. Quindi l'idea di aprire un grafico, vedere il movimento di un prezzo e capire cosa succede, è una cosa che a me piace. Inoltre, ecco, non nego che le prospettive economiche che da fatto in una determinata maniera sono comunque una spinta, ma come ho scritto qui non parlo di ricchezza, perché la ricchezza poi è relativa, ci sono tanti tipi di ricchezza, io sono già una persona ricca con tutto quello che ho. Quello che manca forse è una tranquillità economica che col tempo mi auguro, tramite questa attività, di raggiungere. Ma la ricchezza, ecco, non è una cosa che mi interessa. La ricchezza proprio a livello materiale e basta. E poi la questione della libertà che credo che sia il bene più prezioso che abbiamo. Quindi, ecco, riuscire un giorno, un giorno a lavorare perché ti piace, non perché devi. Avere il proprio tempo e soprattutto dedicare il tempo alla mia famiglia è quello che mi ha spinto a studiare questa materia, chiamiamola così. Assolutamente. Perché credo che sia una di quelle attività che se fatte a dovere può dare una libertà nel futuro, nel lungo termine, ovviamente. È per questo che ho fatto il 3 del 30 giorni. Vedo che, ecco, ci sono alcune persone che sono già studenti, quindi già sanno come funziona, però ovviamente vedo che sono tante persone collegate, quindi facciamo anche una panoramica su che cos'è il corso e su come funziona. Bene. 30 giorni, l'ho scritto bello, grande, è un corso completo. Nel senso, nonostante, ecco, possa essere la base del percorso la sapienza finanziaria, io mi sono trovato dall'inizio alla fine da non sapere praticamente nulla a sapere tante cose, tante, tante cose. Poi metterle in pratica è un'altra cosa, però già saperle e conoscerle non mi aspettavo tanto, onestamente, non mi aspettavo tutti i contenuti. Ti insegnavo, ho diviso queste due parole, approccio corretto e approccio professionale, perché vengono insegnate entrambe e secondo me sono divise. Più avanti poi spiegherò la differenza tra le due. Nel corso vengono affrontati tre pilastri che Sapienza Finanziaria chiama così del trading, che sono l'analisi tecnica, il money management e la psicologia, tre pilastri che vanno curati alla stessa maniera, altrimenti siamo perduti in partenza. È una cosa che magari chi non sa nulla di trading non la capisce, però anche facendo solo poi quello che è stata la Trader Week, che è proprio il tampolino di lancio, si può rendere conto. guarda, c'era un'immagine qualche anno fa, proprio nei primi corsi, Gian Mauro se la ricorderà sicuramente, nelle slide dei primi corsi tanti anni fa, c'era un'immagine, potremmo quasi riproporla, perché rende secondo me molto bene l'idea, dove c'erano tre pilastri e sopra una piramide che poggiava su questi tre pilastri. E l'idea quale voleva essere? Che la piramide era una piramide d'oro, quasi come una piramide che rappresentava un po' il successo, comunque lo vogliamo intendere, poggiava su questi tre pilastri che dovevano proprio essere tutti e tre allo stesso modo costruiti, come hai detto tu, perché uno soltanto dei tre, se uno soltanto dei tre era magari meno stabile, tutta la piramide era in crisi, la stabilità di tutta la piramide era in crisi. se uno dei tre era un po' meno, più basso degli altri due, comunque la piramide era storta e non riusciva a reggersi bene. E quindi il discorso è l'attività di trading si basa, secondo noi, su questi tre pilastri che tutti e tre devono essere ugualmente costruiti e mantenuti nel tempo, perché altrimenti se si dà più attenzione all'analisi tecnica e meno al money management, più alla psicologia e meno l'analisi tecnica o più al money management e meno agli altri due, comunque c'è qualche lacuna da qualche parte e tutta l'attività rischia prima o poi di crollare. E quindi hai detto benissimo, tutti e tre i pilastri devono essere ugualmente costruiti. Esattamente. E infatti vengono ovviamente l'analisi tecnica sono più argomenti, quindi è la parte più corposa del corso, però questo non significa che sia più importante degli altri, proprio più argomenti, sono tanti argomenti. Infatti ci sono 16 lezioni dedicate, infatti è diviso come vedete in quattro moduli, tre lezioni sul money management, tre lezioni sulla psicologia e tre lezioni pratiche in cui viene spiegata come funziona, come si crea una strategia ma nel senso come va impostata non come si crea quello poi uno lo impara facendo il corso e ci sono delle strategie che già Mauro ci ha gentilmente proposto per iniziare a fare trading in maniera corretta. Come funziona? Uno vede la lezione, si hanno 30 video lezioni, una lezione al giorno viene inviata dopo l'iscrizione, fatta al termine di ogni singola lezione vengono assegnati degli esercizi. Questi esercizi vanno svolti, pubblicati sul gruppo Facebook dove poi verranno visionati da voi docenti e anche da altri studenti che comunque possono, viene dato spazio a tutti per dire la propria e si impara tantissimo dalle correzioni, io ho imparato tantissimo soprattutto vedendo le correzioni degli altri. Carlo, vogliamo far vedere velocemente il gruppo Facebook? In che senso? Dove? Vedere insomma che cosa c'è dentro, che cosa si scrive, giusto un minuto molto velocemente. Sì, apro Facebook? Sì, vai. Ok. Allora. ecco qua, questo è il gruppo, vedete, sì? Allora, no, vediamo sempre PowerPoint. aspetta, allora, aspetta un secondo, fammi vedere un attimo dove posso. Sì, perché hai forse selezionato la comunicazione. Allora, new share? Sì, share, esatto. Facciamo così, faccio il desktop direttamente, così, quello che metto si vede. Esatto. Si vede ora? Sì, sì, è qui. Questo è il gruppo Facebook dove, ecco, scorrendo i vari studenti postano i loro esercizi e poi, come vedete, ci sono i nostri cari docenti che ci correggono e ci bastonano, come qua Giulio Valerio. E come vedete, anche altri studenti, non solo i, non solo lo studente che posta l'esercizio al dialogo con i docenti. Anche tutti gli altri, ecco, sono persone che scrivono perché dicono la propria e poi c'è uno scambio di opinioni che, come ho detto, per me è fondamentale per imparare. È proprio veramente pazzesco quanto si impara dalle correzioni e dagli esercizi, dagli errori propri e dagli errori degli altri. Non so, vado avanti, però ecco, il gruppo Facebook che è questo. L'utilità è... Sì, l'utilità è quella che se tu magari stai facendo un esercizio sui vari argomenti, puoi andarti a ricercare tutti gli esercizi che hanno fatto tutti gli altri studenti e rivederteli, vedere che cosa hanno fatto, come li hanno fatti e soprattutto le correzioni. Quindi, non c'è solo un gruppo, è proprio come se fosse una biblioteca di tutto quello che è stato fatto da quando è partito il corso, che è veramente una marea di cose. Vai avanti pure con la presentazione, Carlo. Ok. No, aspetta, ho spinto, non ho usato un'altra. Ok, perfetto. Ok, dove eravamo rimasti? Al gruppo Facebook e poi ci sono una lezione al mese di coaching live e questa cosa anche è fondamentale perché sono proprio lezioni da non perdere perché si impara tantissimo. La cosa bella è che quando uno entra in area riservata ha registrato anche tutte quelle vecchie, anche precedenti al proprio corso, quindi può veramente, ci sono ore e ore e ore di video lezioni che sono state di coaching che sono state live in cui c'è un vero scambio di opinioni perché la cosa bella che ho trovato in Sapienza Finanziaria è che non c'è mai dall'altra parte il guru che è al di sopra di tutti. Tante volte ho visto Gian Mauro che è veramente, non so, come qualsiasi cosa dice c'è da imparare, comunque scambiare opinioni e chiedere agli altri ma con un interesse vero altri modi di operare di altre persone e questo fa tanto perché comunque la cosa bella è che voi non ci avete mai fatto sentire come i bamboccioni i bamboccioni che sono appena arrivati e non capiscono niente c'è sempre stato un essere trattati come di pari livello e non è da poco non è da poco secondo me e poi ma mi sentite? Grazie, come no come no ok e poi ci sono i tg di Gian Mauro in cui si affronta diciamo una parte che una cosa che nel 30 giorni non si vede cioè l'impatto delle notizie delle notizie macroeconomiche sui mercati e poi durante i tg c'è anche una parte di didattica e poi delle operazioni operatività in real time e anche lì comunque c'è uno scambio di opinioni sono veramente belli io consiglio a tutti di seguirli e li trovate anche registrati su facebook su youtube poi quindi andateli a vedere perché sono veramente interessanti si chiama trader in 30 giorni però forse ecco trader in 30 giorni perché in effetti se uno riesce a seguire una lezione al giorno alla fine dei 30 giorni hai tutte le nozioni per tradare per comportarti per fare trading in maniera professionale poi che sia 30 giorni se no io qua ho fatto una slide un po' simpatica perché riguarda la teoria e la pratica in teoria uno fa la lezione fa gli esercizi ok dei docenti e va avanti fino alla fine del corso diciamo che a destra è stata la mia la mia esperienza lezione 1 ho postato subito gli esercizi sui punti di rotazione dopo un quarto d'ora commento di Giulio Valerio no rifai la lezione ok perfetto quindi comunque ci vuole un po' di tempo perché i contenuti sono veramente veramente tanti è un corso impegnativo e ci vuole tempo e dedizione però io io ci ho dedicato molto tempo non ci ho messo tantissimo ho iniziato il 10 aprile ho finito se non sbaglio ho fatto l'esame il 23 il 23 maggio quindi un po' più di un mese però devo dire che ci sono mi ci sono dedicato molto ho studiato tanto però come dice Gian Mauro il trading è un vestito che uno si cuce addosso quindi come ho scritto prendiamo il tempo che serve perché non ci corre a presto nessuno quindi se uno è meglio approfondire rifare un esercizio più volte piuttosto che portarsi avanti dei dubbi e delle lacune che poi tanto più va avanti e più più le cose saranno complicate se uno non ha gli aspetti antecedenti chiari diventa veramente tutto tutto complicato tutto tutto complicato giustissimo giustissimo procedi pure procedi pure altri ti avvisiamo se c'è qualche problema procedi ok ok perfetto come ho iniziato qua dice di presentarmi il mio percorso il mio percorso ho avuto un percorso un po' travaliato e a sentire varie esperienze è stato quello un po' di tutti avevo ripescato tra varie amicizie passate un ragazzo che si definiva un trader professionista in opzioni binarie quindi già questo da portare i suoi i suoi dubbi che cosa ha fatto lui mi ha parlato un po' di questa cosa io onestamente di trading vaga idea ma non avevo non avevo mai aperto un grafico quindi non è che sapevo proprio molto lui mi ha fatto vedere queste opzioni binarie mi ha spiegato come funzionavano mi ha spiegato qualche differenza con per esempio col forex e ovviamente un amico trader che fai sono fidato di lui mi ha fatto aprire un conto ovviamente affiliato non sapevo neanche cosa fossero le affiliazioni mi ha spiegato una strategia e tempo due settimane ho bruciato il conto ovviamente ho fatto uno stop di circa un annetto un annetto e qualcosa poi sono ricaduto tra virgolette sulle opzioni binarie anche perché era l'unico che conoscevo perché fino a conoscere voi onestamente il forex mi sembra complicato quando vedevo i grafici del forex vedevo oscillatori disegni mi veniva il mal di test ho detto no è una cosa che per me è troppo difficile ho trovato un corso sulle opzioni binarie sempre l'ho intrapreso di una persona connessante non faccio il nome ma è abbastanza no su internet però è una persona onesta nel senso è bravo ti segui tutti i giorni mi correggeva le analisi stavo andando avanti così poi c'è stata la decisione dell'ESMA di bloccare le opzioni binarie in Italia e quindi ho detto senti io allora il trading lo voglio imparare quindi io per forza di cose un'occhiata da qualche parte devo farla ho fatto un po' di ricerche su google così ma era sempre complicato e poi ho visto questa faccia simpatica di Giulio che presentava la la trader week ho detto ma vediamo un po' perché mi era passata più volte su facebook però ho sempre detto no vabbè non ci capisco niente ho detto sempre Carlo dimmi scusa se avessi visto la mia di faccia allora no non avresti no assolutamente ah ok grazie non mettetemi in difficoltà hai la faccia più severa Giulia è più giovane è più è più era più alla mano diciamo è più è più non mi mettete in difficoltà vai avanti glissiamo glissiamo esatto e quindi è iniziata ho visto appunto la trader week ho iniziato a vedere la trader week e sono rimasto sorpreso da la semplicità con cui venivano spiegate le cose questa è stata una cosa fondamentale per me che non sapevo nulla praticamente e mi sono trovato alla fine della trader week comunque a poter fare certo non in maniera perfetta perché ovviamente è un corso di sette lezioni di cui le prime quattro sono proprio di base però già uno poteva fare le prime operazioni con delle una strategia molto semplice però ho detto no aspetta vediamo un attimo poi ecco incisa con un periodo un po' era difficile perché ho avuto mio figlio il più piccolino niente di grave però in ospedale e quando entri in quei posti vedi veramente che ci sono sì ecco mio figlio c'era la bronchiolite comunque vederlo tutto intubato bene non faceva però vedi anche cose differenti quindi un pochino mi ha toccato ho detto senti io a questi bambini però così non gli do un futuro devo fare qualcosa di più voglio provare a fare questa cosa e quindi mi è capitato ho visto il video speciale della trader week la notte del 6 aprile non ho come ho scritto non ho la memoria di ferro io ho l'agenda che la scrivo tutti i giorni da anni tutto quello che ho fatto tutti i giorni da un sacco di anni mi tornerà utile penso per il diario come vedete ho scritto ho fatto la notte a mattia è stato buonissimo ho visto il video finale di sapienza finanziaria è allettante se Robby mia moglie me lo appoggia farò il corso ho acquistato il corso ovviamente io qualsiasi cosa condivido tutto con mia moglie e per me è fondamentale condividere qualsiasi cosa in famiglia proprio belle o brutte le cose io condivido con lei tutto perché è l'unico modo per secondo me per portare avanti comunque un rapporto in maniera sana certo e niente lei me l'ha appoggiato perché fortunatamente crede in me e questa è una gran cosa e quindi io il 7 ho pagato il corso e poi il 10 ho iniziato ho iniziato per l'opportunità perché comunque come ho detto prima il discorso è quello era l'opportunità di avere di riuscire a fare un'attività che permettesse a me in futuro di godere la mia famiglia perché è il mio desiderio insomma il mio sogno è quello beh quando nel tempo ti torneranno utilissime queste tre pagine che stiamo vedendo secondo me anche perché dopo un po' passa il tempo ci sono tante 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 situazioni all'interno della nostra vita tendiamo magari a dimenticare perché abbiamo fatto determinate scelte quindi il fatto che tu le abbia scritte su un pezzo di carta che ti porti dietro con te potrà essere utilissimo per rinnovare la tua motivazione per tirarti su quando ci sarà qualcosa che magari andrà meno bene di quanto è andata fino ad allora e per diciamo così darti sempre quel perché ricordarti sempre quel perché che ti ha motivato per cui hai fatto una grandissima cosa secondo me a scrivere e comunque a tenere comunque il diario di tutto ciò che fai e come hai detto ti sarà utilissimo anche nel trading è già un'abitudine consolidata esatto perfetto e ovviamente una cosa che mi ha spinto molto è stato quando ho visto il video speciale della after trader week è stata la proposta di sapienza finanziaria di 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 poter poi continuare il percorso che non si limitava al trader in 30 giorni ma poter continuare se uno vuole e approfondire questa questi studi l'idea anche che a sapienza finanziaria comunque di tendere a portare le persone verso poi farne veramente un'attività non lasciare un corso così ok hai fatto il corso l'hai pagato ciao e questa cosa mi ha spinto tanto perché di scuole di formazione ce ne stanno tante che vengono pubblicizzate così e quello che mi ha spinto comunque è stato proprio la proposta e la prospettiva che mi ha dato fare le cose con voi ok cosa mi aspettavo io mi aspettavo onestamente non mi aspettavo tanto dal corso trader in 30 giorni perché immaginavo fosse un corso un corso base mi aspettavo di avere le basi e quelle le ho avute anche secondo me molto più che delle basi ovviamente di migliorare come ho detto all'inizio mi piace studiare mi piace migliorare il mio essere anche proprio come persona e sotto certi aspetti è poco che studio però già ecco secondo me influirà molto io sono una persona ero prima di sposarmi comunque una persona molto impulsiva e sono due parole secondo me l'impulsività con il trading che non vanno molto d'accordo me ne rendo conto quindi anche l'idea di fare un'attività che comunque ti obbliga a mantenere un certo tipo di fermezza ho detto probabilmente potrebbe tornarmi utile anche nella vita e al momento ecco diciamo che non lo posso vedere perché non ho iniziato poi a in effetti a fare operazioni in reale perché ho preferito studiare proseguendo poi gli studi ho preferito studiare però poi poi vedremo e poi essere pronto perché nella vita uno deve essere sempre pronto non si sa mai quando può capitare un'occasione e che tipo di occasione quindi il discorso di base è quello le mie aspettative erano quelle e ad oggi sono state rispettate con questo questo percorso percorso che mi ha insegnato tanto onestamente una cosa è proprio l'opposto di quello che credevo cioè la semplicità io vedevo come ho detto prima vedevo questi grafici e mi veniva il mal di testa quando li guardavo cercavo immagini su google cercavo forum da diventare matti e era quello che mi ha sempre venuto lontano e invece poi seguendo il corso seguendo le lezioni e le parole di tutti voi e soprattutto di Gian Mauro che penso che ormai ne fa una sfida con tutti noi di farci capire determinate cose ma vedo che alcuni miei colleghi sono un po' di coccio vedi il video di ieri e ho visto proprio quello che voi insegnate cioè la semplicità soprattutto che bisogna osservare osservare tanto e noi non inventiamo niente non inventiamo niente perché come ho letto il mercato alla fine vince sempre non va mai sfidato noi possiamo solo vedere come diceva Gian Mauro ieri se il mercato lascia dei segnali anticipatori di quello che fa il prezzo se l'ha già lasciato in passato quindi sfruttare un'opportunità e prendere una decisione giusta ho scritto solo queste parole chiare per essere conciso e invece tante volte come ho visto ieri alcuni miei colleghi non voglio criticarli perché poi sono errori e magari col tempo potrei ricommettere anch'io quindi non me ne vogliano però Gian Mauro si è sbattuto tanto passatemi il termine su questa cosa di non aprire un grafico mettere su quel grafico quello che abbiamo imparato nel corso e aprire un'operazione perché non funziona così è questo il discorso è questo guarda Carlo non è assolutamente una cioè non sentirti di criticare i tuoi colleghi purtroppo è naturale è quasi umano soprattutto ecco il voler un po' tutto e subito e soprattutto l'ambiente che viviamo e i messaggi che riceviamo andando in questa direzione è ovvio che ti influenza e quindi è normale che sia così e ci si come hai detto ricaschi di tanto in tanto fino a che questa non diventa veramente una forma mentis davvero consolidata io stavo leggendo poco fa una mail di una persona che ci ha scritto risposta a una promozione che stiamo facendo in questi giorni sempre per 3 30 giorni che ha detto la 3 del week è stata bellissima sono veramente contento imparato tanto se non mi leggo la mail per non perdere tempo adesso però prima di seguire il corso voglio fare prima un'esperienza in reale poi eventualmente ci risentiamo cioè non si ha purtroppo la forma mentis di dire prima mi formo e prima capisco bene perché altrimenti potrei farmi male perché non capisco quanto male posso farmi finché magari non me lo faccio davvero e quindi purtroppo questa è così come ha scritto adesso Stelvio siamo tutti vittime dell'avidità è una società che ti porta a questo quindi noi facciamo veramente un lavorone ma non un lavorone in termini di quasi di fatica che infondiamo cioè nel senso che ci vuole tanto per passare questo messaggio siano contenti che veramente persone come te e come tantissimi dei nostri studenti e delle persone che ci seguono stanno iniziando a maturare questa nuova visione delle cose che io credo e come hai anticipato tu prima possa portare dei benefici anche al di fuori del trading e delle vere e proprie evoluzioni personali anche al di fuori del trading e quella è la cosa importante sono assolutamente d'accordo e lo ecco la fine era quello che accendavo prima lo hai esemplificato in maniera perfetta tornando al discorso della semplicità è proprio quello che dicevo all'inizio cioè l'approccio corretto ok l'approccio corretto è quello di sapere come gestire il rischio conoscere determinate cose tecniche avere determinati parametri a livello psicologico per non fare cose sbagliate l'approccio professionale invece è proprio quello l'opposto di quello che Gian Mauro criticava e spiegava ai nostri colleghi cioè non aprire il grafico e fare operazioni senza avere una strategia questo perché perché avendo una strategia se io non ho una strategia io apri il grafico ok prendo un pattern che io conosco va bene lavoro su quello poi però la prima volta che il mercato fa qualcosa che io non mi aspetto se io non ho determinate regole vado in confusione se vado in confusione magari sposto lo stop loss tiro più su take profit vengo coinvolto troppo a livello emotivo e quindi la percentuale di errore è sicuramente maggiore se invece uno ha una strategia definita cioè io so quali sono le confluenze grafiche tecniche che mi dicono ok puoi entrare al mercato se io so dove piazzare lo stop loss dove mettere il take profit come gestire soprattutto l'operazione che è la cosa forse più importante come gestire l'operazione allora una volta che io so questo io faccio quando ho i miei segnali operativi io non devo fare più niente io lascio operare lascio che il mercato faccia quello che deve fare non devo fare altro se mi prende lo stop loss amen perché perché la strategia se ho una strategia vuol dire che è stata testata e quindi ho dalla mia parte la statistica il mercato fa quello che vuole non lo decidiamo noi noi possiamo solo fare in modo di avere una strategia che a lungo termine porti la statistica e la probabilità dalla nostra parte e la perdita va vista come secondo me come una un costo che noi nella nostra attività di trading dobbiamo sostenere se riusciamo a vedere questa cosa in questo modo diventa tutto più facile e riusciamo secondo me a lavorare molto molto meglio senza commettere commettere errori banali Carlo tre secondi prima di dare il via questo webinar ho ascoltato un'intervista di Stefano Marchionne Sergio scusa Sergio Marchionne Sergio Marchionne un imprenditore illuminato a mio avviso veramente molto molto in gambo non a caso è nato nella mia stessa città ora non è che voglio far paragoni però e proprio in questa intervista lui diceva che nella sua vita ha sbagliato più volte lui lo diceva ancora riprova di quante volte sentiamo le stesse cose sono più le volte che ha sbagliato nel prendere decisioni e i risultati che poi sono arrivati ma il fatto di avere stabilito all'inizio dei valori e un metodo operativo è stato poi quello che ha consentito a lui di superare quei momenti negativi e poi di progredire verso quegli risultati che poi ha ottenuto e lo stesso senza andare lì così in alto se voi prendete un macellaio ragazzi o un imbianchino o un falegname un qualunque piccolo grande imprenditore non è che si alza la mattina e decide stamattina faccio una cosa diversa dall'altra no hanno un metodo di lavoro addirittura hanno un business plan no hanno un un percorso che seguono e lo fanno tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni lo martellano ma hanno un metodo di lavoro non si alzano la mattina senza sapere cosa fare è uguale nel trading il trading è la stessa cosa funziona così come come te che sei un padre di famiglia no Carlo non è che una mattina ti alzi e dai fuori di testa ma credo che tu abbia un sistema no un metodo per essere un buon padre un metodo per essere un buon marito è uguale il trading ragazzi senza metodo senza un modo di operare che sia poi quello che crediamo funzioni noi non ci possiamo inventare l'attività altrimenti saremmo eterni dilettanti non otteniamo dei risultati ogni volta faremo un'operazione a caso eccetera con un metodo che è quello che ci sta dicendo Carlo invece le cose diventano molto molto più professionali e assolutamente potenzialmente più profittevoli nel medio e lungo termine quindi trovo molto corretto questa idea di avere una strategia un approccio al trading di questo tipo professionale cioè un metodo da seguire e non inventarci ogni volta le cose e i benefici che poi si ottengono ok grazie Gianna per il contributo veramente come sempre volevo fare una piccola su questa che funziona ok piccola parte su su questo molto per voce vabbè cosa hai migliorato era molto ironico direi tutto perché partivo come ho scritto partivo da zero quindi ecco posso solo che aver migliorato tutto magari ecco tra un po' di tempo posso posso rispondere in maniera migliore quello che volevo dire è che non è importante come diceva Giulio prima pure solo l'analisi tecnica nel senso tante volte uno cerca il sacro grau del trading cioè la strategia perfetta invece da vari studi e anche le simulazioni di Monte Carlo che ho fatto abbiamo visto che anche una strategia che abbia un win rate del 50% quindi non dico che sia quasi il caso ma la pena del 50% comunque con una gestione corretta del rischio e soprattutto un buon rapporto rendimento rischio rischio rendimento comunque può portare un profitto nel medio lungo periodo questo solo per dire che non bisogna incavonirsi secondo me a trovare la strategia che ogni trade deve andare a buon fine perché se no non è una buona strategia no anche una strategia discreta con un win rate del 50% che è più che auspicabile unita alle altre ad una buona gestione del capitale con soprattutto un rapporto rendimento superiore a uno ma soprattutto superiore a due magari un minimo due può portare comunque un profitto è una cosa importante perché tante persone vedo che cercano sempre la strategia perfetta che non esiste perché comunque il mercato cambia non credo che sia possibile almeno io per la mia poca esperienza non ho mai visto qualcosa del genere poi è normale che se uno trova una strategia che ha un win rate più alto non è che fa schifo però non bisogna incavonirsi su quello e riguardo proprio la strategia voglio fare solo un accenno a una cosa che stavo studiando ma ho ripreso in mano veramente da poco perché sto sto in ferie e ero arrivato avendo seguito due lavori quest'anno ero bello cotto quindi è arrivato a un certo punto ho messo il punto e mi dovevo un po' un po' riprendere e si basava su un proseguimento di una strategia che viene di una delle strategie che ci viene spiegata proprio da Gian Mauro durante il il corso nel quarto modulo la strategia di Gian Mauro si basa sulla falsa rottura cioè su come sfruttare delle trappole finanziarie che è creata ad hoc per per comunque ottenere un profitto e evitare proprio di di sbagliare che cosa è successo io guardando questa strategia ho visto che molte volte quando viene confermata la falsa rottura comunque il prezzo prosegue nella direzione preventivata però molte volte non è tradabile dalla strategia di base perché Gian Mauro dai suoi studi ha visto che il prezzo deve quotare il mercato deve quotare un determinato prezzo affinché abbiamo un rapporto rischio rendimento adeguato per poter diciamo tradare l'operazione siccome però ho visto che molte volte anche se qua faccio l'esempio per esempio qui c'è stata la conferma della falsa rottura poi il prezzo è tornato a quotare il mercato è tornato a quotare un determinato prezzo che ci garantiva un rapporto rischio rendimento per lo meno di 1,5 e allora si poteva entrare in questo caso invece nonostante la falsa rottura sia confermata il prezzo non è stato quotato e quindi la strategia non andava bisognava lasciare andare il mercato come ci ha insegnato Gian però ho detto è un peccato voglio vedere se quando c'è stata la falsa rottura vediamo se nel passato trovo qualche cosa qualche segnale del mercato e una cosa che avevo visto non l'ho approfondita onestamente ho visto qualche cosa però la devo approfondire l'ho ripresa proprio in mano qualche giorno fa in questo caso la falsa rottura è andata comunque a take profit quindi è stata confermata è andata a take profit ma non sarebbe stata tradabile con la strategia classica e il prezzo che comunque ha proseguito ben oltre allora avevo individuato in questo caso una divergenza di continuazione rialzista ho detto vediamo un po' se nel passato dopo una falsa rottura se trovo una divergenza il mercato poi magari fa questo movimento lo prosegue e in effetti qualcosina avevo trovato poi come ho detto ero stanco non ce la facevo ho detto meglio la tengo in sospeso e riposo e la riprendo e adesso la riprenderò diciamo la bozza è questa tutta la strategia classica sulla falsa rottura quindi fino alla falsa rottura confermata diventa un primo requisito poi ho bisogno di una divergenza di continuazione coerente adesso voglio verificare però anche il test dell'area quest'area qua lo faccio vedere il test dell'area è opposta alla lateralità della falsa rottura come ho scritto l'ho inserito proprio mentre facevo la slide perché me ne ero accorto proprio in quel momento voglio verificare se in passato ho già visto queste cose se me lo fa un po' di volte farò dei backtest se mi risultano positivi ecco se la strategia avrà un buon esito come ho scritto la condividerò con gli studenti del corso e non posso stabilire altri parametri perché non ho sufficienti confermato storico come ho detto ci stavo lavorando e la devo riprendere in mano quindi è proprio una bozza giusto per far vedere che comunque sono al termine del corso sono comunque in grado di di creare è proprio questa è proprio questa l'incredibilità della cosa che stavo osservando e mi sono preso ne è passato non sono passati dieci anni da quando tu eri un opzionista binario no? e sentendoti e sentendoti proprio bella no? opzionista binario ci vuole una certa non sono passati neanche due se è per questo era il 16 ci vuole veramente è proprio un passaggio totale no? proprio uno switch radicale di come eri e di come in effetti sei poi diventato l'indipendenza finanziaria nasce anche da questo cioè dalla consapevolezza di dire da adesso in poi sono in grado di assumermi assolutamente la responsabilità di poter provare ad individuare io no? le opportunità di trading migliore sono in grado io di crearmi un metodo di approccio al trading consapevole prudente eccetera eccetera quindi credo sia questa la cosa più importante al di là della strategia no? ma sono proprio queste parole che hai detto alla fine sono in grado di rendermi autonomo mi sono reso autonomo perché sono capace anche solo con il primo pilastro di prendere in mano un grafico qualunque e di farci dei ragionamenti di secondo me corretti ma non solo anche il fatto che si prenda una strategia insegnata e proposta da quello che dovrebbe essere il coach il maestro e si ha la capacità mentale e l'atteggiamento mentale di poterla mettere in discussione in qualche modo a tentare di migliorarla quindi anche l'idea che quello che ti viene dato non è il meglio possibile soltanto perché te l'ha detto qualcuno che si è posto magari al di sopra di te perché così è purtroppo lo vediamo è pieno di guru come hai detto tu prima qui invece tu hai capito che siamo allo stesso livello e ti ci sei messo tu allo stesso livello perché hai capito che hai la conoscenza e non è che quello che ti viene detto è oro colato quello che ti viene detto è frutto di un'esperienza di un'altra persona io lo posso prendere analizzarlo valutarlo e con la mia capacità e con la mia consapevolezza di essere comunque capace posso anche migliorarlo posso lavorare per vedere se è possibile migliorarlo e magari farlo anche insieme dove uno più uno non fa più due ma fa molto di più quindi questa è nella è la cosa ancora più importante oltre che perché sei partito fondamentalmente ci hai detto quattro mesi fa insomma ma anche proprio perché questo è l'atteggiamento di indipendenza che ti che ci rende indipendenti poi su tutto perché non siamo più schiavi né di un pensiero né di quello che ci viene detto e né di quindi a cascata nient'altro ma siamo capaci di mettere in discussione tutto proprio quando mettiamo in discussione quello che ci viene detto e magari lo tocchiamo con mano e poi eventualmente lo confermiamo o lo miglioriamo che diventiamo indipendenti diventiamo liberi prima mentalmente poi con tutto quello che ne viene dopo quindi super super grazie ma il fatto di avere la tranquillità di prendere qualcosa di già pronto rimetterci le mani quindi come all'altezza deve stare tutto lo stesso livello dipende anche da da voi da come vengono comunque considerati gli studenti all'interno del corso quello che dicevo prima chi farà chi deciderà di fare il corso comunque si renderà conto io quando sto nel corso quando scrivo quando faccio le seguo le lezioni live i coetigi di Gian Mauro è come se mi sentissi a casa quindi è veramente è un piacere guarda è veramente vi faccio i complimenti perché la capacità con cui gestite anche il rapporto umano con le persone secondo me non si trova dappertutto quindi veramente è bella è qualcosa di di bello poi riguarda vabbè riguarda la strategia qua saprei un discorso perché con Giulio Valerio abbiamo una abbiamo una sfida in atto per Natale quindi poi la vedremo perché ho avuto una mi sono un po' scornato con un un recensore con evidenti problemi ah sì sì ricordo ok io avevo preso un po' le difese perché più che altro odio la gente parla a bambera e onestamente ecco anzi ti devo dire che sono stato anche pagato perché ho fatto un po' fatica però sono stato anche abbastanza pagato nelle risposte Giulio Valerio mi ha proposto una cosa da fare entro entro Natale vediamo un po' di farla bene bene benissimo benissimo sono curioso sì 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 no più che altro voglio dire a chi sente chi sta fuori perlomeno fate la trader week ragazzi perché quel cretino scusate il termine che parlava non l'aveva neanche fatta stava criticando voi non lo so voi non mi avete mai promesso niente che poi non mi avete dato capito e certa gente non lo capisce quindi parla proprio secondo me se si pagava non parlava parla perché è gratis va bene ok proseguiamo un attimo perché si sta facendo tardi che risultati ho avuto i risultati ecco sono quelli che ho spiegato forse più risultati pratici pratici a livello di statistica di trade effettuati non ne ho perché sto studiando e i risultati che ho avuto sono sicuramente risultati di approccio quindi forse ecco prima di avere quelli è importante capire come approcciare l'attività e credo di stare su diciamo sul di farlo di farlo nel modo giusto e poi ecco niente sto studiando detto questa strategia ne avevo fatta una inizialmente ma in fase di testing non mi piaceva e e poi sto facendo un lavoro su come ho scritto sull'impatto delle netizie macroeconomiche sui mercati poi farò vedere più avanti e però questa è colpa di Gian Mauro e dei suoi ITG che mi ha fatto appassionare quindi ecco è colpa sua se mi toglie mi toglie tempo al discrezionale per fare questa cosa quindi poi chiederò un suo un suo parere voglio andare un po' avanti poi chiederò un parere a lui ok consiglio di partecipare sì e no no se uno ha intenzione di mettersi là davanti guardare le video lezioni fare i 4-5 esercizi che vengono proposti e poi pensare che alla fine dei 30 giorni sei un trader professionista no se vuoi immagire se pensi che alla fine del corso ti viene regalato la formula magica per fare i soldi e sì se vuoi delle basi per iniziare sia tecniche che soprattutto comportamentali e sì se cerchi una scuola professionale umana dove viene vissuta proprio l'attività e poi sì se vuoi proseguire proseguire e crescere in questo in questa attività oltre alla pratica estiva mi sono iscritto al master che inizierà a fine settembre inizi di ottobre l'idea è quella di proseguire il percorso a sapienza finanziaria quindi di essere di avere le capacità di raggiungere le competenze necessarie a proseguire il percorso anche quello dopo il master che ci sarà e poi niente intanto proseguire tutto quello che riguarda il trading discrezionale perché mi sono fatto anche la diciamo la come si chiama la challenge di Andrea l'auto trading l'auto trading challenge bellissima mi è piaciuta molto però ecco bello il trading automatico però mi piace sapere quello che faccio quindi anche quello che c'è dietro però mi ha incantato anche quello quindi ecco finito tutto il percorso discrezionale intanto mi auguro di riuscire a comunque a veramente fare del trading la mia attività un'attività comunque fare un lavoro e poi anche fare il percorso automatico perché secondo me il trading automatico insieme al trading discrezionale nel multi day può dare degli attivi importanti e quindi diciamo che questo è quello che voglio fare ci ho dedicato tempo come ho detto un po' meno sembra quasi un paradosso perché un po' meno a casa perché tra casa moglie e bimbi io se quando riesco circa due un paio d'ore la sera quello che dico chi dice che non ha tempo è perché lo impegna in altre cose e la maggior parte delle volte sono cose evitabili poi evitabili è un punto di vista dipende uno quello che vuole la priorità se tu preferisci uscire la sera ci mancherebbe è una scelta però dire non ho tempo per studiare due ore secondo me non è vero è proprio questione di priorità e poi al lavoro ecco anche 4-5 ore riesco perché a volte ho veramente due-tre ore vuote e poi faccio le notti quindi riesco a studiare riesco a studiare molto e siamo quasi alla fine ecco il commento come ho spiegato l'ho già detto è inutile che rilego è un corso completo è vissuto e quando viene pubblicato un esercizio c'è subito chi ti corregge puoi aspettare ecco una giornata se capita di sabato o di domenica ma nemmeno e nemmeno perché siamo sempre eseguiti e poi i consigli i consigli sì questi sono pochi però secondo me sono buoni e vanno seguiti e li leggo proprio perché secondo me rimangono un po' più impressi fate gli esercizi non fate i furbi ho visto studenti che comunque si sono anche un po' straniti magari perché era stato detto di non fare l'esercizio di che l'esercizio non era corretto e pretendeva comunque di andare avanti perché non c'era scritto da nessuna parte che se non che era obbligatorio come si dice nel senso non era vietato proseguire no non è vietato però poi non ti serve a niente quindi insomma se c'è un corso come scritto è stato strutturato in una certa maniera è perché voi che probabilmente avete un pizzico in più di esperienza magari l'avete studiato così è perché deve essere fatto così poi non sarebbe interesse nostro dire fermati ristudia e rifarlo prima di andare avanti ci sarebbe interesse nostro vai alla fine anzi dacci altri soldi per magari fare una coaching privata no ti diciamo riguardati il video che già hai e rifarlo l'esercizio quindi ho notato che molte persone hanno una superbia che supera veramente la consapevolezza di non sapere quindi vabbè il mondo è bello perché è bacio non fate di testa vostra non siete pronti io nemmeno quindi ascoltiamo sempre quello che ci dicono i docenti perché sono professionali e gentili e una pazienza veramente infinita ho visto anche con me spiegare volte più volte più volte le stesse cose senza un minimo di di stanchezza condividete tutto quello che fate e guardate gli esercizi che postano gli altri partecipanti con le correzioni è veramente fondamentale e io l'ho vissuto sulla mia pelle sulla mia pelle e nonostante ho finito il corso continuo a guardare gli esercizi anche a volte a a inserirmi e dare il mio commento perché il mio commento potrebbe essere anche sbagliato ma quando poi mi viene corretto io ho imparato una cosa in più ok quindi è importantissimo poi cercate di partecipare alle coaching e ai TG se potete perché sono proprio tanta tanta roba sono pazzeschi e poi siate educati e rispettosi qua non lo so vedo veramente certe volte proprio una mancanza di rispetto verso di voi e verso gli altri che comunque decidono di fare il percorso in una certa maniera ho visto mi dispiace però ho visto Gianna l'altra volta Gian ha un suo modo di insegnare che a me piace tantissimo tante volte Gian ti pone una domanda ma ti pone una domanda non perché gli piace di farsi gli affari suoi perché poi alla tua risposta è sempre in grado di agganciare una spiegazione che ti può illuminare e certe volte sembra che sta cosa non viene capita non lo so e vedo una spocchia in alcuni colleghi che io non non mi permettere mai sarà sarò diverso sarò strano io però vabbè e è così quindi siate educati e rispettosi perché qua dentro trovate persone veramente che fanno il loro lavoro con passione e fanno in modo che un giorno potrebbe diventare il vostro oppure il nostro di lavoro quindi insomma minimo di di rispetto grazie no figurati e niente poi ho messo un po' di cose di me un po' di cavolate cavolate insomma alcune si le prime no le altre si ecco vabbè io con mia moglie ti ho scritto le forme della felicità ho detto è la cosa più importante che ho la cucina le passioni da bambino che mi porto avanti e quelle da d'adulto chiudo con dei ringraziamenti e li leggo perché ecco a Giulio Pasquini che è stato il primo volto a cui ho associato salienza finanziaria e soprattutto per come ho detto la semplicità con cui mi ha portato a decidere di iniziare questo percorso perché se non avessi avuto una persona come te che mi spiegava le cose con chiarezza non l'avrei mai preso non cioè non non l'avrei deciso perché sarebbe rimasto per me una cosa impossibile e non lo è e a Paolo che non so se c'è perché mi ha seguito proprio nei primi esercizi forse è stato il primo credo dopo la prima bastonata di Giulio Valerio lui ha corretto tutti i miei esercizi iniziali quindi grazie c'è Paolo c'è Paolo Paolo ci senti? puoi parlare se vuoi aspetta che Paolo puoi parlare se vuoi se ci sei comunque vabbè eccolo ciao ciao ti sei beccato ho fatto pure il ringraziamento ma grazie a voi grazie a te ma ci mancherebbe ho fatto però ecco tra i propri primi esercizi trovare comunque una persona che ti segue con costanza nonostante gli errori continui è è piacevole ti fa capire che comunque stai nel posto giusto no? quindi grazie grazie a Giulio Valerio che ecco forse con me ho avuto tanta pazienza perché l'ho bombardato anche in privato e ho veramente fatto due balle tante e troppa ce ne dovrà avere visto che faccio il master in bocca al lupo e Gian Mauro perché come ho detto non sai che cosa ti aspetta Carlo eh non vedo l'ora di scoprirlo però non credo che me ne pentirò magari ci avrò da fare sarò esaurito ma lo voglio fare e sarà un piacere e Gian Mauro come ho già detto che qualsiasi cosa dica o scriva io mi leggo con passione tutti i suoi commenti tutto ciò che pubblica perché veramente si non si fa altro che imparare ringraziamento a tutti gli studenti che hanno condiviso con me questa avventura adesso non non faccio i nomi perché siamo talmente tanti che dovrei dovrei escludere qualcuno però ho condiviso veramente con tante persone ho avuto degli scambi piacevoli di di vedute sull'argomento è stato un piacevere poi a mia moglie che poi sentirà questa diretta non la sentirà in diretta ma ha chiesto se la poterla sentire registrata perché mi appoggia sempre e crede in me e proprio per questo non devo non devo tradire la sua fiducia quindi ho un obiettivo forte e lo devo raggiungere lo voglio raggiungere va bene ai miei bambini perché sono loro che muovono tutto cioè mi basta pensarli momenti difficili per dire no vado avanti non posso non posso proprio fermarmi non posso e ringraziamento anche a mamma perché se no il master mi sa che l'avrei fatto tra un po' di tempo e questo glielo dovevo che mi dà mi dà una garanzia dovessi essere in difficoltà e ecco a me stesso perché ne ho passate tante però non ho mai mollato e so che ce la farò ho scritto sta frase sotto e non so dove l'ho letta se mi è venuta a mente se me la sono inventata se ne è canzone però mi piaceva ho scritto c'è una strada da fare non so di preciso dove mi porterà perché il discorso è ampio però è l'unica che voglio percorrere onestamente sono contento di farla con questa pianza finanziaria perché mi ha dato tanto qui c'è la foto del mio attestato del manuale del libro Missione Libertà leggetelo perché è veramente bello non è un libro sul trading c'è una parte riguardo al trading ovviamente ma non è un libro sul trading è un libro veramente può aprire gli occhi su tante cose e poi lì il mio futuro prossimo il master e niente non so sto qua ho fatto è finita grazie Carlo grazie grazie a voi per l'opportunità io ho dato un'occhiata ieri alla tua presentazione mi aveva emozionato così come mi ha emozionato ancora di più sentirti questa sera perché è proprio una bella una bella persona una persona pulita una persona che ha dei principi veramente importanti anche il solo fatto di come parla della tua famiglia non solo dei figli ma anche della moglie è assolutamente bellissimo e non così frequente purtroppo quindi dobbiamo passare anche questo tipo di messaggio e poi sei una persona veramente come quelle che troviamo nei nostri gruppi sempre di più e quindi sono felicissimo del lavoro che stiamo facendo perché stiamo tra virgolette attirando e quindi creando dei gruppi con persone come te e niente di cioè soltanto cose buone e belle possono venire con persone così per cui sono felicissimo grazie mille ci riconosceremo presto di persona ma sentire da come parli dalla chiarezza dalla motivazione dalla competenza chissà io ci vedo anche ci vedo anche qualcosa di più che magari potremo fare insieme chi lo sa vedremo cosa ci porterà però sono veramente contento di avere studenti e persone come te insieme a noi insieme a Sapienza Finanziaria c'è qualche domanda giusto una che vedevo prima te la giro riguardo ai time frame c'era la vado a prendere Moreno che chiedeva se uno degli errori è quello di non scegliere i time frame più adatti a noi tu cosa ne pensi di questa di questa cosa riguardo ai time frame operativi beh il time frame è riporto di nuovo le parole di Gian Mauro il time frame il trading è cucito proprio è in base alla persona quindi al tempo che uno ha a disposizione quindi il time frame anche è una oddio io venendo proprio dal discorso delle opzioni binarie i time frame troppo bassi non mi piacciono perché sono troppo soggetti alla notizia alla notizia quindi io la strategia che comunque farò non credo quando farò deciderò di iniziare avrò una strategia ben definita e deciderò di iniziare comunque sarà su un time frame più alto quindi non credo più basso di H4 anche perché magari ecco in fase di studio ho studiato sempre su time frame minori però mai sotto il 30 minuti sai qualcosa sulle notizie sui 15 minuti anche lo guardo quando vedo un attimino cerco come dicevo prima sto facendo un lavoro sul diciamo di analisi fondamentale e su quello magari sai il time frame più basso lo guardi perché comunque l'impatto della notizia su un time frame più basso vedi meglio il movimento magari si formano delle code dei punti di lancio delle situazioni particolari che magari in qualche modo si può riuscire a sfruttare questo ancora non lo so però per una strategia di trading discrezionale basata sull'analisi tecnica io non lavorerei più su un time frame alto che non sia più basso di H4 proprio in caso eccezionali H1 però ovviamente poi uno in base al tempo che ha se io ho il tempo di stare tutto il giorno davanti al computer puoi lavorare anche in H1 però bene o male ogni ora dovresti dare un'occhiata a vedere a quello che succede quindi vado un po' contro la mia visione del trading che come ho detto prima è una questione di libertà uno poi deve essere schiavo del trading perché se devo stare là davanti al computer a vedere che fanno i mercati è come se sto sì faccio trading ma è come se sto in ufficio adesso sto sempre là davanti fermo quindi uno se lo deve un po' cucire addosso secondo me dipende uno quello che vuole è talmente un'attività personale che non sentirà mai ecco se uno chiede a una persona la persona che verrà dopo di me magari la vede in maniera differente quindi è una domanda a cui precisamente non so rispondere no è giusto è giustissimo quello che dici proprio perché ognuno si costruisce la sua attività su delle basi comunque comuni il risultato è questo insomma quindi bene così Massimo conferma con un messaggio che dice che anni fa l'IT Forum di Rimini ha sentito un trader professionista che ci aveva messo anni a trovare il suo time frame quindi non è una cosa semplice ma comunque noi diamo delle dritte appunto per soprattutto per impostare il trading in modo che ti dia libertà e non tempo da dedicare necessariamente a meno che tu non voglia tutto il giorno davanti al computer quindi questo è già importantissimo c'è Roberto che ti chiede se usi indicatori e cosa ne pensi delle candele ai che nasci gli indicatori uso di base uso lo stocastico non uso altro perché per la strategia che ho visto uso solamente lo stocastico e alcune volte cerco dei riscontri con le medie mobili però altri indicatori no perché mi piace lavorare più con veramente con la price action perché tanto l'indicatore e poi lo stocastico soprattutto lo utilizzo solamente per le divergenze perché alla fine gli indicatori sono tutti dei derivati del prezzo non è il contrario quindi arriverà sempre prima il prezzo e dopo l'indicatore le divergenze invece sono veramente degli strumenti importanti che danno delle indicazioni molto precise alcune volte nella maggior parte delle volte da quello che ho visto e soprattutto una divergenza la può prendere anche con quel pizzico di ritardo e quindi può ottenere dei risultati anche con un pizzico di ritardo le candele che nasci onestamente non so neanche cosa siano non è uno strumento che trattiamo una particolare forma di visualizzazione delle candele ma hai risposto benissimo sul fatto cioè benissimo nel senso sulla tua esperienza sul fatto che usi pochi indicatori e ti piace guardare il grafico così com'è che è giusto anche secondo me così Daniele ti fanno una domanda particolare che non so se mi era mai arrivata un minorenne potrebbe fare trading ed essere profittevole ora al di là degli aspetti diciamo l'apertura dei conti e quant'altro però a livello di beh il discorso è perché mi chiedi del minorenne nel senso forse è lui minorenne Daniele se sei tu un minorenne secondo me sì perché poi a livello di competenze a livello di capacità a livello di cose da fare allora io penso che sia un'attività come le altre quindi come vedi ci sono persone piccole di età di età grafica poi certo fanno cose ci sono ragazzi ecco faccio l'esempio del calcio a me piace comunque il calcio un ragazzo di 18 anni come Mbappé l'attaccante del Paris Saint Germain ha vinto il mondiale con la Francia non è che devi aspettare di avere 20 anni 30 25 e così quindi secondo me se uno ha una passione e decide di coltivarla perché no poi ecco lasciamo la parte ecco che non può un minorenne magari non può aprire il conto però secondo me sì assolutamente bel messaggio bel messaggio anche questo contro contro tendenza rispetto alle credenze classiche ti do anche un mio messaggino Daniele sul fatto che sei tu il minorenne io ho iniziato ad approcciare nel trading quando avevo 17 anni devo dirti che non avendo voluto per mia scelta perché non vedevo diciamo utilità per come erano strutturati i corsi di allora non avendo seguito nessun corso ma avendo dovuto fare voluto fare tutto da autodidatta ci ho messo parecchio tempo per iniziare a far quadrare un po' il cerchio tu se sei minorenne non è importante minorenne cioè è una cosa legale poi minorenne basta l'età mentale se tu hai a prescindere dall'età anagrafica se tu hai un'idea chiara una motivazione abbastanza forte e una chiarezza quindi su quello che vuoi fare e il trading è quello che vuoi fare o tra le cose che vuoi fare scegli un percorso di formazione che ti aiuti ad accorciare quanto più i tempi dell'apprendimento e della fase poi pratica operativa per sfruttare al massimo quello che è il vantaggio del tempo che tu hai in questo momento perché tu sei un ragazzo che ha davanti a sé magari più anni di quanti posso averne già io che sono comunque giovane già Alberto che comunque scusami Carlo che comunque è giovane e più di tantissime altre persone quindi questo è il vantaggio di tempo che puoi avere non vuol dire che chi è più avanzato come età non possa fare trading anzi perché poi dipende da tantissime cose e dalla tua agilità mentale ci sono ragazzi di 18 anni 17 anni o 20 anni che sprecano il tempo ci sono signori persone di 50 55 anni o più anche 40 eccetera che seguono i nostri corsi in pochissimo tempo magari c'è qualcuno anche che ha lasciato il suo lavoro o lo sta per fare perché ha trovato un modo per organizzare la sua vita e soprattutto ha una motivazione forte quindi è sempre la motivazione che ti guida se tu sei così giovane sfrutta il tempo comunque che hai se hai una motivazione forte e scegli un percorso che ti possa consentire di accorciare la curva e il tempo di apprendimento per essere operativo il prima possibile nel modo giusto e quindi avere una grande carriera con tanto tempo davanti a te io sono 15 anni a livello mentale no Stelvio ok 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 invece Roberto chiede se hai mai sentito parlare ho praticato le onde di Elliot e l'analisi ciclica non è un argomento di 30 giorni quindi non so forse per altre no ho sentito parlare di analisi ciclica però non ho mai approfondito perché ho deciso di non mettere troppa carne al fuoco in settembre avremo un webinar con un ospite molto molto particolare e molto competente su questi argomenti quindi se ti interessa Roberto analisi ciclica seguici poi nel webinar che organizzeremo Andrea ti chiede se hai già cominciato a tradare denaro reale oppure se stai ancora utilizzando un account demo nessuno dei due non sto tradando sto studiando grandissimo 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 bellissima risposta i risultati quindi magari ci potremmo risentire tra qualche mese per quanto riguarda no la cosa bella è che hai ci hai dimostrato di aver acquisito un risultato fondamentale che sono proprio le basi l'atteggiamento giusto e ciò che cioè il risultato più grande nel trading paradossalmente non è tanto quello di saper guadagnare o di guadagnare da subito eccetera ma è proprio l'atteggiamento giusto perché questo atteggiamento la prima cosa più importante e più di valore proprio che ti permette è quella di evitare di incappare in fregature incappare in truffe magari fare degli errori di valutazione magari esporti per più di quello che sei disposto dai sporti e quindi di perdere dei soldi cioè tu con il tuo atteggiamento sicuramente non perdi dei soldi o non più di quanti tu sei disposto a mettere a rischio in gioco e questo è il guadagno più importante il vantaggio più importante il risultato più importante secondo me poi viene tutto il resto quando tu impari a stare a galla anche non facendo niente se non è il caso di fare perché è anche quella una scelta allora poi puoi costruire in positivo altrimenti rischi sempre tantissimo e quindi piuttosto aspettare e formarsi bene prima di iniziare che non rischiare troppo e poi magari farsi veramente molto molto male esatto quanto tempo ci vuole per essere operativi facendo il percorso con il modo di atteggiamento giusto beh Honor dipende dalla dipende da te in qualche modo Carlo ci ha detto sono quattro mesi e comunque è arrivato a questo punto ci sono altri studenti che magari in meno tempo costruiscono subito la propria strategia o comunque iniziano subito potenzialmente guarda dopo i 30 giorni hai tutto quello che ti serve giusto Carlo? confermi hai tutto quello la mia è una scelta volendo anche perché comunque date nella quarta lezione vengono date delle strategie già verificate quindi se uno studia quelle strategie se vuole può iniziare anche in reale io ho deciso di non di studiarle e basta quindi poi è una scelta personale però al termine dei 30 giorni hai tutte le competenze per iniziare a tradare poi è una scelta ottimo ottimo benissimo Daniele ci risponde a 16 anni hai iniziato a studiare trading da qualche mese guardo molti video sul trading in generale adesso ho iniziato a leggere libri sul trading magari nei prossimi mesi vorrei anche riuscire a comprare un corso con i miei risparmi questo secondo me è già un investimento bravo tra l'altro ho aperto anche un account demo con i dati di mio padre spero che vada bene bravissimo bravissimo Daniele in bocca al lupo non so se hai seguito anche i nostri di video e di corsi probabilmente sì o magari ci hai conosciuto da poco scarica la Trader Week che è il corso da cui hai iniziato anche Carlo e seguici perché comunque avrai dei 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 buoni spunti per iniziare quindi bravissimo mi raccomando Daniele cerca di tenere sempre la chiarezza su quello che vuoi fare meno informazioni è meglio ma buone e vai avanti che andrà alla grande facci sapere stai in contatto con noi che sarebbe bellissimo capire come un ragazzo di 16 anni porta avanti la sua la sua idea e la sua la sua attività in questo senso bravissimo perfetto perfetto quindi bisogna operare solo dopo aver fatto il master no fitim non credo che abbia detto questo Carlo anzi ha detto dopo i 30 giorni sei già potenzialmente operativo però scegli tu quando esserlo quindi no assolutamente no il master è una cosa diversa è una cosa un po' che serve più che altro per stare ancora più tempo insieme e poter condividere più di persona le strategie le operatività di ognuno ma altrimenti già dopo il 3 delle 30 giorni hai tutto quello che ti serve confermato da Carlo anche Giuseppe ha 16 anni wow che bello che bello che bello che bello bravi bravi mettetevi in contatto scambiatevi i numeri in privato qua fate qualcosa perché siete siete fortissimi bene Carlo rimaniamo in linea qualche minuto se ci sono altre domande per te io intanto prendo lo schermo per l'opportunità che diamo ogni settimana ai nostri ai nostri utenti che ci seguono in diretta qui in sala webinar quindi prendo lo schermo va beh devo interrompere qualcosa io fai tu no no credo proprio di no credo proprio di no ok peraltro ci siamo allungati un po' questa sera più del previsto ma va benissimo è stato bellissimo quindi penso e spero che d'altro siamo ancora tutti collegati quindi più di 100 collegati quindi è un segno che la serata è piaciuta molto vedete il mio schermo io sì 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 ok allora intanto come puoi iniziare anche tu il percorso che ha fatto Carlo beh la cosa che puoi fare è proprio partire dalla trader week ovvero la settimana di corso gratuito che ti insegna le basi del trading professionale per come la vediamo noi in sapienza finanziaria dalla bc anche se parti da zero fino a fare le tue prime operazioni in demo soprattutto sapendo gestire bene il rischio che è ciò che vediamo nel video 5 della trader week che è la cosa principale per poter non rischiare più di quanto sei disposto a rischiare quindi imparare come gestire questo rischio questo famoso rischio nel trading in modo davvero serio e professionale quindi parti da qui su questo link sapienzafinanziare.com slash corso trattino trading trattino gratis hai il link anche nella chat puoi iscriverti gratuitamente e seguirmi seguirci in questa settimana di formazione il percorso successivo si chiama trader in 30 giorni trader in 30 giorni l'ha anticipato benissimo Carlo è un corso che si dispiega in 30 video lezioni giornaliere che ti attiviamo nella tua area riservata una volta al giorno in 4 moduli analisi del grafico money management psicologia del trading e come costruire una strategia vincente più dei contenuti extra che danno ulteriori approfondimenti su alcuni temi in più ci sono anche dei bonus importanti come ad esempio il gruppo facebook riservato che abbiamo visto poco fa anche con Carlo che è ciò che permette la condivisione tutti i giorni con i docenti tra virgolette con gli altri colleghi e con la possibilità di impostare esercizi e di quindi essere corretti di scambiarsi opinioni e di quindi avere contatto diretto con tutti che era un bellissimo gruppo siamo quasi 700 attualmente sul gruppo facebook iscritti al corso ne sono di più ma al momento non tutti entrano nel gruppo magari qualcuno non entra oppure entra in ritardo quindi al momento siamo quasi 700 su questo gruppo e quindi riusciamo a gestire ancora tutti bene questo mi fa piacere perché non è così scontato e andiamo e andiamo benissimo bellissimo gruppo in più ogni mese una sessione di webinar coaching in diretta due ore minimo che facciamo per assisterti nella creazione della tua strategia e in più appena entri nel corso tutte le registrazioni delle precedenti coaching come ha detto Carlo è disponibile da subito nell'area riservata e quindi hai decine di ore di webinar già disponibili ed è ulteriore materiale formativo perché ogni volta si tratta un tema specifico e ogni volta quindi è come un corso nel corso fondamentalmente per cui hai già tantissime tantissime ore e tantissimo materiale in più chi quindi termina la 3 del week può accedere a 3 del in 30 giorni e 3 del in 30 giorni è il corso che ti viene proposto al termine della 3 del week con un certo una certa offerta offerta che però vogliamo riproporre anche a chi ci sta seguendo questa sera in diretta nella sala webinar e quindi ora è il momento del regalo ma decidiamo di farlo questo regalo soltanto a chi è presente in sala così che possiamo interagire come stiamo facendo con le domande e con tutto quello che abbiamo potuto fare finora per cui un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo magari nella live su facebook piuttosto che stanno vedendo magari il video registrata la prossima volta iscriviti dal link partecipa direttamente in sala webinar per avere il regalo che è uno sconto particolare che stiamo per fare ai nostri amici che vogliono eventualmente partecipare a 3 del 30 giorni come ha fatto Carlo per cui salutiamo ciao 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 saluta anche tu Carlo gli amici che ci seguono grazie ciao a tutti grazie per averci seguito grazie a te grazie a te grazie a te ciao Carlo grazie mille ciao ciao quindi chiudo la live e la registrazione perfetto oh 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 o